Gennaio, come ama ricordare Massimo Rastelli, resta il mese più odiato dagli allenatori di calcio. La scadenza del 31, che coincide con la chiusura del mercato, segna la fine di un periodo di trattative, inquietudine ed incertezze che fanno davvero male al campo. Ed infatti le prestazioni, ma soprattutto i numeri di gennaio, sono decisamente impietosi per l'Avellino. Un solo gol in tre partite, nessuna vittoria e tre redi incassate per un trend assolutamente negativo. Naturalmente la colpa non è solo del mercato e delle sue distrazioni, ma anche di una squadra che nei momenti critici esprime ancora di più delle falle. Tra gli alibi restano anche le assenze, un centrocampo azzoppato dagli infortuni ed una difesa che deve ancora trovare il suo assetto in termini di titolari. L'attacco, inoltre, è in maggiore parto sotto inchiesta. Partendo dal cuore del campo, se dall'olio sta provando ad accelerare il recupero, Matera appare ancora lontano dal rientro. In difesa i problemi non mancano. Aia resta in forse con buone probabilità di recupero, mentre Pane è decisamente out. In avanti Rastelli continua a nutrire più di un dubbio. Se Russo ha perso la verve, Trotta non l'ha mai trovata. Gambale ci prova, così come Di Gaudio e Canutè. La speranza è che questo gennaio possa svoltare sul Gong, regarando a Rastelli la speranza di chiudere il mese nero e continuare la stagione a colori.